Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si è fatto carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.